La chiesa di Maria Ausiliatrice sorge a Savona, in via San Giovanni Bosco, fuori dal centro storico cittadino, in una zona urbana ziruffatasi tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. La chiesa fa parte della diocesi di Savona Nori, edificata in supporto all'oratorio salesiano che si sviluppò a Savona alla fine del XIX secolo. La sua consacrazione è avvenuta nel 1605 e di modeste dimensioni e priva di campanile, stile architettonico e eclettico, a pianta otagonale e la spacciata semi nascosta dagli edifici scolastici e civili circostanti. Grazie a tutti!